Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, Nella nostra Catechesi Mistagogica sull'Eucaristia, dopo la Liturgia della Parola e la Consagrazione, siamo giunti al terzo momento, quello della Comunione. Questo è il momento della Messa che più chiaramente esprime l'unità e l'uguaglianza fondamentale di tutti i membri del popolo di Dio, al di sotto di ogni distinzione di rango e di ministero. Fino a quel momento, cioè fino alla Comunione, è visibile la distinzione dei ministeri. Nella Liturgia della Parola la distinzione tra Chiesa docente e Chiesa discente. Nella Consagrazione la distinzione tra sacerdotio ministeriale e sacerdotio universale. Nella Comunione nessuna distinzione. La Comunione che riceve l'ultimo battezzato è la stessa che riceve il sacerdote e il vescovo. La Comunione Eucaristica è la proclamazione sacramentale che nella Chiesa la coinonia viene prima ed è più importante della gerarchia. Riflettiamo sulla Comunione Eucaristica partendo da un testo di San Paolo, precisamente la prima lettera ai Corinzi al capitolo 10. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il Sanque di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, forziamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. La parola corpo ricorre due volte nei due versetti, ma con un significato diverso. Nel primo caso il pane che noi spezziamo non è comunione con il corpo di Cristo, qui il corpo di Cristo indica il corpo reale, nato da Maria, morto e risorto. Nel secondo caso, quando dice siamo un corpo solo, il corpo indica il corpo mistico, la Chiesa. Non si poteva dire in maniera più chiara e più breve che la comunione eucaristica è sempre comunione con Dio e comunione con i fratelli, che c'è in essa una dimensione per così dire verticale e una dimensione orizzontale. Partiamo dalla prima. L'Eucaristia comunione con Cristo. Cerchiamo di approfondire quale genere di comunione si stabilisce tra noi e Cristo nell'Eucaristia. In Giovanni 6, 57 Gesù dice, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. La preposizione per, in greco di a, ha qui un valore causale e finale insieme. Indica un movimento di provenienza e un movimento di destinazione. Significa che chi mangia il corpo di Cristo vive da lui, cioè a causa di lui, in forza della vita che proviene da lui, e vive in vista di lui, cioè per la sua gloria, per il suo amore, per il suo regno. Come Gesù vive del Padre e per il Padre, così comunicandoci al santo mistero del suo corpo e del suo sangue, noi viviamo di Gesù e per Gesù. È infatti il principio vitale più forte che assimila a sé quello meno forte. È il vegetale che assimila il minerale, non viceversa. È l'animale che assimila il vegetale e il minerale, non viceversa. Così ora, sul piano spirituale, è il divino che assimila a sé l'umano, non viceversa. Sì che mentre in tutti gli altri casi è colui che mangia che assimila ciò che mangia, qui è colui che è mangiato che assimila a sé chi lo mangia. A colui che si accosta a riceverlo, Gesù ripete quello che un giorno si sentì dire interiormente Sant'Agostino. Non sarai tu che assimilerai me a te, ma sarò io che assimilerò te a me. Un filosofo ateo, Feuerbach, ha detto che l'uomo è ciò che mangia, intendendo dire che nell'uomo non esiste nessuna differenza qualitativa tra materia e spirito, che tutto si riduce alla componente organica e materiale. Un ateo, senza saperlo, ha dato la migliore formulazione del mistero cristiano. Grazie all'Eucaristia il cristiano è veramente ciò che mangia. Scriveva già tanto tempo prima di Feuerbach, San Leone Magno. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tente ad altro che a farci diventare quello che mangiamo. Nell'Eucaristia c'è dunque non solo una comunione tra Cristo e noi, ma anche una assimilazione. La comunione non è solo unione di due corpi, di due menti, di due volontà, ma è assimilazione all'unico corpo, l'unica mente e volontà di Cristo. Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito, dice Paolo. Quella dell'alimentazione, mangiare e bere, non è la sola analogia che abbiamo della comunione eucaristica, anche se è insostituibile. C'è qualcosa che essa non può esprimere, come non lo può l'analogia della comunione tra la vita e il tralcio. Queste sono comunione tra cose, non tra persone. Comunicano, ma non sanno di comunicare. Vorrei insistere su un'altra analogia che ci può aiutare a capire la natura della comunione eucaristica, in quanto comunione tra persone che sanno e vogliono essere in comunione. La lettera agli Efesini dice che il matrimonio umano è un simbolo dell'unione tra Cristo e la Chiesa. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. L'eucarestia, per usare un'immagine audace ma vera, è la consumazione del matrimonio tra Cristo e la Chiesa. E una vita cristiana senza l'eucarestia è un matrimonio rato ma non consumato. Al momento della comunione il celebrante esclama, beati gli invitati alla cena dell'agnello, beati qui a decena magni vocati sunt. E l'Apocalisse da cui questa frase tratta è molto più esplicito, dice beati gli invitati alla cena di nozze dell'agnello. Ora, sempre secondo Paolo, la conseguenza immediata del matrimonio è che il corpo, che qui significa sappiamo bene tutta la persona del marito, diventa della moglie e viceversa. Il corpo della moglie diventa del marito. Questo significa che la carne incorruttibile, datrice di vita del verbo incarnato, diventa mia. Ma anche la mia carne, la mia umanità diventa di Cristo, è fatta proprio da Lui. Nell'eucarestia noi riceviamo il corpo e il sangue di Cristo, ma anche Cristo riceve il nostro corpo e il nostro sangue. Gesù scrive Sant'Ilario di Poitiers, assume la carne di colui che assume la sua. Cristo dice a noi, prendi questo è il mio corpo. Ma anche noi possiamo dire a Lui, prendi questo è il mio corpo. Cerchiamo di capire ora le conseguenze pratiche che scaturiscono da questo. Nella sua vita terrena, Gesù non ha fatto tutte le esperienze umane possibili e immaginabili. Tanto per cominciare è stato un uomo, non una donna. Non ha vissuto la condizione di metà dell'umanità. Non era sposato, non ha sperimentato cosa significa essere unito per la vita a un'altra creatura, avere figli, o peggio perdere dei figli. È molto giovane, non ha conosciuto la vecchiaia. Ma ora, grazie all'eucarestia, Lui fa tutte queste esperienze. Vive nella donna la condizione femminile, nel malato la malattia, nell'anziano l'anzianità, nel rifugiato la precarietà, nel bombardato il terrore. Non c'è nulla della mia vita che non appartenga a Cristo. Nessuno dovrebbe dire, ah Gesù non sa cosa vuol dire essere sposato, non sa cosa vuol dire essere donna, aver perso un figlio, essere malato, essere una persona di colore. Ciò che Cristo non ha potuto vivere secondo la carne, lo vive e sperimenta ora da risorto secondo lo Spirito, grazie alla comunione sponsale della Messa. Aveva compreso perfettamente il motivo di ciò Santa Elisabetta della Trinità, la quale scriveva in una lettera alla madre, la sposa appartiene allo sposo. Il mio sposo mi ha presa e vuole che io sia per lui un'umanità aggiunta, un'umanità del suo cuore. Quale inesauribile motivo di stupore e di consolazione al pensiero che la nostra umanità diventa l'umanità di Cristo? Ma anche quale responsabilità da tutto ciò? Se i miei occhi sono diventati gli occhi di Cristo, la mia bocca quella di Cristo? Quale motivo per non permettere al mio sguardo di intugiare su immagini lascive? Alla mia lingua di non parlare contro il fratello? Al mio corpo di non servire come strumento di peccato? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Scriveva con orrore San Paolo ai Corinzi. E tuttavia non è ancora tutto, anzi manca la parte più bella. Il corpo della sposa appartiene allo sposo, bene, ma anche il corpo lo sposo appartiene alla sposa. Dal dare si deve passare subito nella comunione al ricevere e ricevere niente meno che la santità di Cristo. Dove mai si attuerà concretamente nella vita dei credenti quel meraviglioso scambio, admirabile commercium, di cui parla la liturgia se non si attua nella comunione eucaristica? Lì abbiamo la possibilità di dare a Gesù i nostri stracci sporchi e ricevere da Lui il manto della giustizia. È scritto infatti che Egli per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Ciò che Egli è diventato per noi ci è destinato, ci appartiene. Poiché, scrive Cabasilas, questo grande autore bisantino, poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi, avendoci Egli ricomprati a caro prezzo, inversamente quello che è di Cristo ci appartiene più che se fosse nostro. Bisogna soltanto ricordare una cosa. Noi apparteniamo a Cristo per diritto, Lui ci appartiene per grazia. È una scoperta capace di mettere le ali alla nostra vita spirituale. Questo è quel colpo di genio, quel colpo d'ala della fede, e dovremmo pregare Dio di non permettere che moriamo prima di averlo fatto una volta nella vita. Riflettere sull'Eucaristia è come vedersi spalancare davanti a mano a mano che si avanza orizzonti sempre nuovi, sempre più vasti. Si aprono uno sull'altro a perdita di vista. L'orizzonte cristologico della comunione che abbiamo contemplato fin qui si apre infatti su un orizzonte trinitario. In altre parole, attraverso la comunione con Cristo noi entriamo in comunione con tutta la Trinità. Nella sua preghiera sacerdotale Gesù dice al Padre che siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me. Quelle parole, io in loro e tu in me, significano che Gesù è in noi e che in Gesù c'è il Padre. Non si può perciò ricevere il Figlio senza ricevere anche lui, il Padre. La parola di Cristo chi vede me vede il Padre significa anche chi riceve me riceve il Padre. Il motivo ultimo di ciò è che Padre, Figlio e Spirito Santo sono un'unica inseparabile natura divina, sono una cosa sola. Scrive a questo proposito di nuovo Sant'Ilario di Poitiers. Noi siamo uniti a Cristo che è inseparabile dal Padre. Egli, pur rimanendo nel Padre, resta unito a noi. Così anche noi arriviamo all'unità con il Padre. Infatti Cristo è nel Padre connaturalmente, in quanto da Lui generato, ma in un certo modo anche noi attraverso Cristo siamo connaturalmente nel Padre. Egli vive in virtù del Padre e noi viviamo in virtù della sua umanità. Ciò che si dice del Padre vale anche dello Spirito Santo. Nell'Eucaristia si ha una replica sacramentale di quello che è avvenuto storicamente nella vita terrena di Gesù. Cosa è avvenuto? Che al momento della nascita terrena di Gesù lo Spirito Santo ci dona Cristo, perché Maria ha concepito però per lo Spirito Santo. Al momento della morte è Cristo che dona lo Spirito Santo. Murendo emisse lo Spirito. Ora, similmente, nell'Eucaristia, al momento della consacrazione, lo Spirito Santo ci dona Gesù, poiché è per la sua azione che il pane si trasforma in corpo di Cristo. Al momento della comunione è Cristo che, venendo in noi, ci dona lo Spirito Santo. Sant'Ireneo, finalmente dottore della Chiesa, dice che lo Spirito Santo è la nostra stessa comunione con Cristo. Nella comunione Gesù viene a noi come colui che dona lo Spirito. Non come colui che un giorno, morendo tanto tempo fa, diede lo Spirito, ma come colui che ora, consumato il suo sacrificio sull'altare, di nuovo emette lo Spirito. L'Eucaristia, venerabili padri, fratelli e sorelle, non è solo la Pasqua quotidiana, è anche la Pentecoste quotidiana. Da queste altezze vertiginose torniamo adesso sulla Terra e passiamo alla seconda dimensione della comunione eucaristica, la comunione con il corpo di Cristo che è la Chiesa. Richiamiamo alla mente la parola dell'Apostolo. Poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Sviluppando un pensiero abbozzato già nella didachè, Sant'Agostino vede un'analogia nel modo in cui si formano i due corpi di Cristo, quello eucaristico e quello ecclesiale. Nel caso dell'Eucaristia, dice, abbiamo dapprima il grano disperso sui colli, che trebbiato, macinato, impastato in acqua e cotto al fuoco diventa pane. Nel caso della Chiesa abbiamo la moltitudine delle persone che, riunite dalla predicazione evangelica, macinate dai digiuni da penitenza, impastate in acqua nel battesimo, cotte al fuoco dello Spirito Santo, formano il corpo che è la Chiesa. Immediatamente ci viene incontro a questo proposito subito la parola di Cristo. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Se tu vai a ricevere la comunione ma hai offeso un fratello, non ti sei riconciliato, nutri rancore. Diceva Sant'Agostino al popolo, tu somigli a una persona che vede arrivare un amico che non vedeva da anni. Corre per incontrarlo, si alza in punta di piedi per baciarlo sulla fronte, ma nel fare questo non si accorge che gli sta calpestando i piedi con scarpe chiodate, perché i fratelli e le sorelle sono i piedi di Gesù che ancora camminano sulla terra. Questo vale in modo speciale nei riguardi dei poveri, degli afflitti, degli emarginati. Colui che ha detto del pane questo è il mio corpo lo ha detto anche del povero, lo ha detto quando parlando di ciò che si è fatto per l'affamato, l'assetato, il prigioniero, il nudo, ha dichiarato solennemente l'avete fatto a me. Questo è come dire io ero l'affamato, io ero l'assetato, io ero lo straniero, il malato, il prigioniero. L'ho ricordato altre volte, ma lo ripeto, il momento in cui questa verità quasi esplose dentro di me. ero in missione in un paese molto povero, attraversando le vie della capitale vedevo dappertutto bambini coperti da pochi stracci sporchi che correvano dietro ai camion delle immondizie per cercare qualcosa da mangiare. A un certo punto era come se Gesù diceva a me, guarda bene, quello è il mio corpo. C'era da averne il fiato mozzo. La sorella del grande filosofo Blaise Pascal riferisce questo fatto relativo al fratello. Nella sua ultima malattia Pascal non riusciva a trattenere nulla di quello che mangiava e per questo non gli permettevano di ricevere il viatico che lui chiedeva insistente. Allora disse, se non potete darmi l'eucaristia, fate almeno entrare un povero nella mia stanza. Se non posso comunicare con il capo, voglio almeno comunicare con il suo corpo. L'unico imperimento a ricevere la comunione che San Paolo nomina esplicitamente è il fatto che nell'assemblea uno è affamato e un altro è ubriaco. Quando dunque vi radunate insieme il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti quando siede a tavola comincia a prendere il proprio pasto, così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Questo è il primo Corinti 11. Dire questo non è un mangiare la cena del Signore, è come dire la vostra non è più una vera eucaristia. È un'affermazione forte, anche da un punto di vista teologico, alla quale non prestiamo forse abbastanza attenzione. Al giorno d'oggi la situazione in cui uno ha fame e un altro scoppio di cibo non è più un problema locale, ma sappiamo bene planetario. Non ci può essere niente in comune tra la cena del Signore e il pranzo del ricco e pulone, dove il padrone banchetta lautamente, ignorando il povero che sta fuori dalla porta. La preoccupazione di condividere ciò che si ha con chi è nel bisogno vicino e lontano deve essere parte integrante della nostra vita eucaristica. Non c'è nessuno che volendo non possa durante la settimana compiere uno di quei gesti di cui Gesù dice l'avete fatto a me. Condividere non significa semplicemente dare qualcosa, pane, vestito, ospitalità, significa anche visitare qualcuno, un prigioniero, un malato, un anziano solo, non è dare solo del proprio denaro, ma anche del proprio tempo. I poveri e i sofferenti hanno bisogno di solidarietà e d'amore, non meno che di pane e vestito, soprattutto nel tempo di isolamento imposto dalla pandemia. Gesù ha detto i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. questo è vero anche nel senso che non sempre possiamo ricevere il corpo di Cristo nell'eucaristia e anche quando lo riceviamo ciò non dura che pochi minuti, mentre possiamo sempre riceverlo nei poveri. Qui non ci sono limiti, si chiede solo che lo vogliamo. I poveri li abbiamo sempre a portata di mano. ogni volta che incontriamo qualcuno che soffre, specie se si tratta di certe forme estreme di sofferenza, se stiamo attenti udremo con gli orecchi della fede la parola di Cristo, quello è il mio corpo. Concludo, venerabili padri, fratelli e sorelle, con una piccola storia che ho letto da qualche parte. Un uomo vede una bambina denutrita, scalza, tremante di freddo e grida a Dio quasi con rabbia, oddio perché non fai qualcosa per quella bambina? E Dio gli risponde, certo che ho fatto qualcosa per quella bambina, ho fatto te. Che Dio ci aiuti a ricordarci al momento giusto. Nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén.